sono un gemelli quindi sono un creativo di natura non riesco a fermarmi a solo un settore della fotografia e per fortuna questa è molto molto vasta quindi io faccio non solo matrimoni ma anche ritratistica still life aziendali eventi moda e quant'altro ma soprattutto faccio tantissimi progetti personali che sono la mia linfa vitale per esprimere la mia creatività in tutti questi anni ho imparato tanto davvero tantissimo ma non si finisce mai di imparare in fotografia questa evolve bisogna stare al passo ed è questa la cosa bella non ci si annoia mai io sono giù tarantini e oggi vi parlerò della tecnica della luce pittorica